Buonasera, buonasera a tutti, eccoci ancora di nuovo su un'altra puntata con Anubi Magazine, Anubi TV. Anche oggi abbiamo una diretta pomeridiana, abbiamo cambiato l'orario del format, siamo nel pomeriggio e questa sera ho l'onore e il piacere di avere un carissimo amico Leonardo Melis e parleremo di Ciardana, Opoli del Mare e di Ramses II. Presento l'ospite di stasera, buonasera Leonardo. Un saluto a tutti, buonasera. Faccio una breve presentazione a Leonardo ma credo che chi ci assiste sicuramente conosce già Leonardo Melis che è ormai il più importante ricercatore sui popoli del mare, in particolare degli Ciardana, ma non solo Ciardana ma ha anche connessioni con questi popoli del Mediterraneo nei confronti anche di altre culture perché hanno praticamente girato tutto il Mediterraneo e hanno avuto dei contatti abbastanza importanti con l'Egitto, in particolare nel periodo Ramesside, sono stati importanti anche come hanno combattuto con gli Egizi e anche sono stati guardia particolare, truppe scelte per il faraone Ramses II durante la legge di Kadesh che ce ne parlerà fra un po' Leonardo. Quindi Leonardo è secondo me, non dico perché amico mio perché sarebbe troppo semplice, ma sicuramente questo è il più preparato non ortodosso ricercatore storico su questa cultura, è nota la sua appartenenza sarda perché Leonardo è fortemente ancorato al territorio come è giusto che sia perché è una cosa che è importante perché c'è molti si dimenticano del proprio radici ma in realtà lui veramente è fortemente sardo e fortemente ciardana in questo caso, come ci parlerà lui. Io direi senza stare a perdere tanto tempo potremmo tranquillamente iniziare la presentazione di Leonardo, abbiamo una serie di slides, se volete fare delle domande scrivete nel chat, alla fine risponderemo a quello che possiamo rispondere, vediamo quante domande ci sono. Io direi che Leonardo quando hai necessità di cambiare la slides mi fai ok e io te la cambio. Purtroppo il sistema, il nostro sistema in questo momento, gli streaming ha da questi limiti. Ok Leonardo? Bene, grazie. Un saluto di nuovo a tutti, parliamo di Ciardana. So che molti di voi già conoscono l'argomento, altri conoscono l'argomento dei popoli del mare che ormai dilaga in tutta Italia, fortunatamente perché forse da due secoli non se ne parlava più, ne parlavano per primi, comunque sono coloro che hanno dato il nome a questi popoli, sto parlando della Francia dove rappresenta anche il mio libro in edizione francese, o Gaston Maspero a chiamarli popoli del mare. Gli egizi li chiamavano con altri appellativi, gente delle isole, il re delle isole, quelli del mezzo a grande verde, eccetera, delle isole dell'occidente. Pian piano ne parleremo di questa localizzazione di questi popoli, perché ripeto, io inizialmente cominciai a scrivere e a indagare sui Ciardana in Egitto e altrove, poi chiaramente nei miei libri c'era sempre i popoli del mare, perché? Perché i popoli del mare riguarda proprio l'epopea di questi popoli in cui sono inclusi quelli che sono chiamati in modo improprio popoli italici. I popoli italici non sono loro, l'Italia allora era solo una frazione dello stivale, situata tra la Calabria e la Basilicata. Sono i popoli del mare, chiamiamoli così, io li chiamo anche Urim per la provenienza dalla Mesopotamia in un periodo del terzo millennio. Comunque, parliamo piano piano. Un attimo per spiegare alcune foto della copertina. La copertina riporta il mio primo libro, che oggi è alla sedicesima ristampa, è stato pubblicato anche fuori dall'Italia, in altre lingue, soprattutto in francese, è distribuito anche in Egitto, in alcune zone, la zona vicina Luxor. Ha avuto una fortuna enorme, forse perché era il primo, è una sorpresa, eccetera. In alto alla nostra sinistra vediamo un gruppo di guerrieri, sono delle statue alte oltre i due metri, sono chiamate infatti dalla gente giganti, non sono necessariamente giganti, non sono delle statue di guerrieri e di altro, comunque raffigurano per Leonardo Meles i Shardana. Vedremo anche questo perché. Sotto queste statue vediamo un'immagine che riporta la Messe II, Azizo nel trono, dopo la battaglia di Kadesh. E sotto il suo trono, i più vicini in assoluto, sono i Shardana, che li vediamo riprodotti poi in grande ancora più sotto. Li vediamo poi e li spiegheremo con calma appresso. Abbiamo una mappa in alto a destra, con dei tragiti, che sono legati a questi movimenti di popoli. Abbiamo anche una stella dove figura non solo il nome Shardana, leggendolo da destra verso sinistra, verso sinistra vediamo la B, quindi la Beta, poi la Shin, Sinaitica, comunque B, Sardana, spiegheremo anche questo. Ma nella prima riga, questa è una sorpresa anche per il mio amico Leonardo, Leonardo Lovari, c'è la scritta Tursus. Ora, indicava sia Tiro, sia Tursha, quindi gli Etruschi, ecco un altro dei popoli molto legati a Shardana. Gli Etruschi vedremo che hanno uno scambio importante con la Sardegna, anche tutt'oggi se vogliamo, però allora prima e dopo il ritorno, prima del 1200 a.C. e poi dopo l'Ottocento, il loro ritorno, c'era un legame molto importante tra i Etruschi e Shardana. Poi sotto c'è un'immagine di Leonardo Meles, un po' particolare, una ripresa fatta in mezzo a, tra uno, un mencei canario e uno spagnolo, una cosa particolare che riguarda il Libu, un altro popolo del mare. Possiamo un brano nella Bibbia, io sono tartassato dai miei lettori che mi chiedono sempre di parlare di nuraghi o di giganti, ma di solito non ne voglio parlare perché mi occupo d'altro, però alla fine ho dovuto scrivere anche questa cosa perché la Bibbia è vero che parla di giganti, ma spiega anche come e chi sono, non necessariamente quindi dei giganti di statura fisica. La Bibbia in Genesi 6, versetto 4, racconta che vi erano allora i giganti sulla terra anche quando i Nefili, cioè quelli che caddero, i figli di Dio, si unirono alle figlie degli uomini che generavano loro dei figli. Sono costoro gli eroi dell'antichietà, uomini famosi. Sta spiegando il termine giganti, perché eroi dell'antichietà? Erano figli di Dio o di un Dio, di una terrestre o di una figlia degli uomini, perché? Noi li conosciamo benissimo, perché le mitologie greca, romana e altre mitologie parlano di questi semi dei, Enea, Achille, Perseo, ma sono importanti perché molti di loro sono i caposchipiti di alcune popolazioni fra cui ci sono questi popoli del mare di cui parleremo. Possiamo andare avanti. Il primo di cui abbiamo menzione storica fu colui che fu chiamato il primo imperatore della storia, Sargon di Akkad, parlando del 2450-25 a.C. Sargon ha una nascita miracolosa, come tanti altri poi che vediamo sono fotocopiati come storia. Basta pensare alla nascita di Mosè, alla nascita di Romolo, di Perseo. E come nasce Sargon? Sargon è figlio di un Dio e di una vergine vestale, chiamiamola così comunque una vergine del Tempio, c'è sempre la vergine del Tempio di mezzo, è il Dio. Viene affidato chiaramente alle acque del fiume, in questo caso le Ofrate, non il Tevere o il Nilo o altre acque, e viene poi salvato da un personaggio che è legato, è un altro funzionario della corte del re Sumero della zona. Aveva anche un nome particolare che richiama la storia di Romolo, che è fotocopiata anche questa da questa di Sargo. In quella di Romolo c'è una certa Callarenzia, identificata poi con la lupa dal Curio. Comunque Callarenzia, che è quella che alleva Romolo e poi anche Remo. E qui invece Acchi, il nome è praticamente uguale al di là del genere o del sesso del personaggio. E quindi Sargon poi crescerà, diventerà un potente, raduna un esercito interessante con un'armatura particolare. Comunque comincia a uccidere questo re della zona o lo zio o il cartello del padre. La solita storiella la riconosciamo e diventerà re a sua volta, poi imperatore e via dicendo. Quindi questo è il primo gradino di questo tipo di storie e li vedremo in seguito tutti quanti. Andiamo pure. Allora, dopo il regno di Sargon c'è la caduta dell'impero di Akkadio che lui aveva fondato. in seguito a un'Accadistia durata 300 anni circa, qualcuno dice 200, qualcuno 400 addirittura, ci sono degli studi accademici in proposito che confermano anche 400. Non so per quale causa, però l'Accadistia durò diverso tempo, quindi anche secoli. I racconti sumeri, dei racconti sumeri, non sono certo il primo a farlo. Raccontano che la gente della Mesopotamia dove fuggì? Fuggì in seguito a questa cadastia, fugge verso il nord, si cercano posti più freschi e andò nella fattispecie quelli, gli abitanti di Ur, ecco la storia degli Ur, gli abitanti di Ur, capeggiati da patriarca Terà per quanto riguarda la Bibbia e Tirù per quanto riguarda i sumeri, partì verso una città gemella dove adoravano i Dio Sin. Terà era il sacerdote del Dio Sin, quindi non c'entrò niente la religione ebraica, certo, anche se c'entra come discendenza, però non c'entrano ancora. Stiamo parlando di dei ancora, chiamiamoli pagani. E quindi va verso questa città che ritornerà ogni tanto sia nella storia ebraica, sia nella storia di Israele, sia nella storia dei popoli vicini. Vanno ad Arran e lì si inseriranno. La curiosità è che io ad Arran ho scoperto, infatti ci sono queste costruzioni tutt'oggi che ricordano le tolos dei nuraghi, nuraghi in Sardegna, non solo in Sardegna, e al limite le tombe di Micene con questa tolos tipica che tutti conosciamo. Possiamo andare avanti. Allora, questo è uno dei documenti che ho trovato a comprova della teoria dei due-trecento anni di essiccità e questa è comprovata dall'International Commission della stratigrafia, eccetera. Questi studi confermano il fatto che questa carestia riguarda anche l'Egitto, la Grecia, la Siria, la Palestina, la Mesopotamia, l'Indo, la Valle dell'Indo, eccetera, eccetera, continuando in tutte queste zone dell'Oriente. Quindi c'è una conferma storica, almeno questa non è una teoria campata in aria da Leonardo Males, che comunque anche le altre non sono campate in aria, le vedremo, è una conferma che volevo mettere. Grazie, andiamo avanti. Ecco, qui vediamo meglio la cosiddetta migrazione, io la chiamo migrazione degli Urim o dei popoli del mare, ancora non si chiamano così, ma neanche popoli delle isole. In effetti nella Bibbia, la tavola numero 10 della Bibbia, sempre in Genesi, dice che questi erano coloro che diedero origine agli abitanti delle isole, queste che andranno via dalla Palestina, dalla costa medio orientale. Ma vediamo che c'è un tragitto particolare, la prima fuga, chiamiamola così, va verso il Mar Nero, quindi verso Arran, lì muore Terai e si divideranno in vari gruppi, alcuni continueranno verso il nord e attraverseranno i fiumi, i grandi fiumi della Russia, oggi si chiameremo così, il Dnieper e il Divina, sbuccando al Golfo di Riga nel Baltico, insediandosi nella zona tra la Danimarca e l'Irlanda. Sono quelli che l'irlandese nella mitologia chiamano i Tuata de Dana e li vedremo sia nell'Iliade sia nei festi egizi, con un nome identico, Dana, Dana e eccetera. Poi un altro gruppo si dirige verso il Danubbio, questi sono quelli che i romani chiamavano Galli o Celti, li conosciamo bene per le descrizioni che Cesare ne fa nel Debello Gallico, mentre un altro gruppo fa un'inversione verso la Palestina, il gruppo che troviamo nella Bibbia con Abramo e Lot, che continueranno verso l'Egitto e stranamente Abramo viene ricevuto dal Faraone e ospitato dal Faraone. Non è strana, è una cosa che leggendo la Bibbia non si capisce perché, però leggendo la storia del personaggio Abramo, che qualcuno ha identificato un personaggio dei testi sumeri, vediamo che lui era un principe, non era un ricco peccoraio. Lui si permette di sconfiggere quattro re mesopotamici con i suoi uomini, che erano i Narin. I Narin vengono dalla zona di Arran e sono quelli che ritroveremmo a Kadesh che piomano alle spalle dei Littiti favorendo Ramess II, questo ve lo sto anticipando. Quindi questo gruppo che scende da Arran va verso la Palestina con Abramo, armeranno una flotta e si dirigeranno, vedete, verso l'Occidente. La Bibbia li chiama nel capitolo 10, la tavola delle genti, li chiama coloro che dietro origine alle genti delle isole. Ci sono i nomi, ci sono i nomi dei Libu, ci sono i nomi dei Peleset, ci sono i nomi dei Shardana, ci sono questi popoli, vediamo che vanno verso l'Occidente. I Peleset si fermeranno sicuramente a Creta, la Bibbia dice che venivano da Kaftor, infatti, li vediamo, e nella terra che chiamiamola greca si fermeranno gli Acajasa, quelli che Omero chiamerà Akei, qualcuno rimane per l'isola anatolica, i Gecker, che sarebbero i Teocri, quelli che erano gli abitanti di Troia, anche il Libu in un primo momento, cioè il Liku, scusate, il Liku, poi andando verso l'Occidente ancora abbiamo i Sakalasa in Sicilia, i Tuscia in un primo tempo, dice Rotto, arrivarono ma poi non si trovarono bene e tornarono in Asia minore, poi abbiamo i Vasasha che sono probabilmente i corsi, chiaramente Shardana che abitavano sia la Sardegna sia una parte medidionale della Corsa, che è una parte della Catalonia, dove ancora oggi il ballo nazionale è Sardana, ma ci sono delle province, delle zone, delle città, dei luoghi chiamati ancora Sardana o Sardana. Abbiamo anche i Libu, che sono quelli che poi verranno chiamati cartaginesi, non chiamatemi subito addosso perché sto dicendo veramente quello che è, perché questi popoli abiteranno intorno al primo millennio fino al 1200 a.C. abiteranno nel Mediterraneo e poi andranno via per un motivo che fra poco spieghiamo. Quindi la situazione è questa, prima della famosa invasione del 1200 che farà crollare tutti gli imperi dell'età del bronzo, i greci dicono che piomberà un medioevo antico di 300 anni, anche qui 300-400 anni durerà questa cosa, anche questa la vediamo in seguito. Possiamo andare avanti. Allora la stampa ufficiale, io qualche volta prendo qualche ritaglio di giornale, ogni tanto parla non solo chiaramente delle teorie ufficiali o teorie di Leonardo Mese, ma anche quelle alternative. Quindi abbiamo tre presentate su Focus qualche anno fa, la prima è di Gian Battista Lafranchi, mi sembra che si chiama Gian Battista, professore universitario italiano, lui praticamente parla soltanto della provenienza dei popoli del mare dell'invasione del 1200, quindi vedete in alto la cartina, c'è una provenienza proprio dalle isole dell'occidente verso l'Egitto e verso l'Asia minore, quindi Ugarit eccetera. Quindi l'invasione dei popoli del mare lui la documenta come l'arrivo dei popoli del mare e come la descrivono gli egiziani. Poi c'è una seconda teoria, questa è dei miei amici dell'archeologia ufficiale, io li chiamo buonariamente archeobuoni, per non chiamarli in altro modo perché loro mi chiamano fantarcheologo, quindi potrei anche usare un altro termine, comunque loro tanto per essere contrari a quest'attore, teniamo presente che quelli dell'archeologia ufficiale in Sardegna, quindi parlo della sovrintendenza dei loro vicini di casa, quelli ufficiali, negano che in Ciordana siano i sardi, unici al mondo credo, perché ormai anche in Italia, nell'Italia intendo uno stivale, accettano il fatto che i Ciordana siano i sardi, quindi stiamo parlando adesso soprattutto dei Ciordani. Quindi loro nel 1200 li fanno arrivare in occidente, tutto quello che hanno scritto gli egizi lo ribaltano e raccontano che non vengono dalle isole dell'occidente, ma possono anche venire da lì, però ci vanno nel 1200, contenti loro. Mentre invece la terza ipotesi, la chiamano ipotesi, ha due tragiti, uno è quello che abbiamo visto precedentemente nel 2002, la fuga da Uro, i viaggi in Europa, il Danubio, nel Baltico, nelle isole dell'Occidente, lì staranno dal 2000-2002 fino al 1200, anno in cui accade qualcosa di catastrofico, è raccontato dagli egizi, in questo caso dall'ipotesi della messa secondo, la messa terzo e loro piombano sui potentati come Bicene, Troia, eccetera, quindi ci sarà una catastrofe descritta in vari modi dei vari scrittori. Possiamo andare avanti. Allora, anche, anzi soprattutto, la stampa estera, io ho fatto conferenze sia in Francia, sia in Svizzera, sia in Egitto, quindi tempo fa viaggiavo parecchio, anche perché si poteva di più e anche perché avevamo qualche mese in meno, qualche anno in meno, e Nexus mi dedicò in un primo momento dieci pagine sulla mia teoria dei sardi discendenti da Sumer. Mi fece molto piacere, anche perché una giornalista poi venne a trovarmi qui in Sardegna e mi fece un regalo di una scoperta mia particolare, in qualcosa che mi chiese, ne parliamo dopo. Quindi Nexus mi fece questo regalo, pubblicato, siccome io avevo già pubblicato il mio libro in Francia, avevo fatto delle conferenze soprattutto nella zona di Marsiglia, nella Camarga, eccetera, e qualche giornalista si incuriosì e fece questi articoli molto belli con dieci pagine, una cosa buona, possiamo andare avanti. Allora, i popoli del mare, perché erano potenti i popoli del mare? Intanto detenevano, soprattutto i Shardana, ripeto, mi perdonerete se io ogni tanto puntualizzo il fatto, non perché sono sardo, ma perché sono gli egizi a parlare, a documentare soprattutto questo popolo, anche gli altri, però questo popolo per loro era talmente importante che ne fecero la guardia del corpo, ma non solo la messa secondo, addirittura già dai tempi di tutto il Mosi III e anche precedentemente, e lo vedremo, anche questo documentato. Allora avevano il segreto del bronzo, sappiamo che il bronzo non è un minerale, ma è una lega che è composta di nove parti di rame e una parte di stagno. C'è un veliero del 1350 a.C. ritrovato sulle coste turche, adesso conservato nel museo di Uluburum, col carico intatto. C'è un carico di dieci tonnellate di rame e una tonnellata di stagno. Il tanto per armare un intero esercito, forse quello di Ugarit o di Troia, di Atusa non credo perché allora avevano già il ferro, i titi, però era il quantitativo per armare un intero esercito. E loro avevano il segreto dello stagno, ma lo stagno in Mediterraneo non c'era, perché c'era in Mesopotamia e anche nelle zone ancora più oriente, quindi in Mesopotamia non avevano il problema di fabbricare il bronzo. Ma nel Mediterraneo mancava completamente, anche se c'era molto rame, ma mancava completamente lo stagno. Anche se molti oggi, ma in Sardinia c'è la casita inite. Sì, ma l'hanno scoperta ieri sera, ma poi non è in quelle quantità, quindi parliamo di tonnellate. E lo andavano a prendere in Danonia, la Danonia non è altra che la Cornovaglia, quindi avevano un tragitto al nord, verso l'Inghilterra, e un tragitto al sud, circonnavigando l'Africa e andando in Africa occidentale, entrando dai fiumi navigabili, allora, ma anche oggi non lo so, dello Zambesi e dell'Imbopo e arrivavano in quello che è il Grit Zimbabwe, che è questo. Vedete che loro costruivano delle città fortificate per difendersi da eventuali attacchi di indigeni vari, eccetera, come per stare tranquillamente mentre estraevano i minerali, che non era soltanto lo stagno, e il Grit Zimbabwe è una città, la chiameremo nuragica se vogliamo, perché è costituita con questi sistemi. Ma perché io insisto sul fatto dello stagno a Zimbabwe? Perché ne abbiamo le prove, possiamo andare avanti. I bronzetti sardi, che non sono presenti solo in Sardegna, ma sono presenti per fare un esempio tra la Toscana e il Lazio, quindi l'Ettruia, temiamo l'Ettruia da fare prima, ci sono molti di questi bronzetti e anche navicelle, io non è che ne ho trovato, non ho presentato una conferenza in Calabria, era nel Museo di Crotone, una navicella, io le chiamo Sardana, qui le chiamano nuragica, tanto per non chiamarle Sardana, e vediamo che c'è un particolare, le navicelle, soprattutto le protome delle navicelle, ma non solo, queste protome raffigurano degli animali, dei bovidi, chiamiamoli così, che la scienza ufficiale chiama bue dalle corna storte, bue dalle corna esili, bue dalle corna ritorte, ma in Sardegna un bue c'è, se vogliamo precisare. Quindi, io sono andato a vedere, queste protome sono raffigurate in modo talmente preciso che sembra quasi che siano fotografiche, ma chi poteva raffigurare degli animali in modo così perfetto? E non sono, ripeto, né voi Sardi, né voi Siculi, né voi del Mediterraneo. Vediamo che sulla nostra destra abbiamo l'antilope di Thompson, che è identica, c'è la protome e l'antilope, la nostra a sinistra vediamo l'antilope d'acqua, che è identica, abbiamo più su, abbiamo lo Gnu, in alto a sinistra, abbiamo al centro il Facoccero, definito cinghiale, abbiamo addirittura il Varano, che è chiamato Volpestante, sto parlando di, sto dicendo che viene chiamato dai testi ufficiali di questi bronzetti, opera dei grandi Babai Liliu e di altri archeologi. Abbiamo addirittura lo scimpanzee, perché è uno scimpanzee? Perché è privo di coda? I quadrumani hanno la coda, solo tre di loro, quattro se non erro, sono Lorango, Gorilla e lo scimpanzee. Mi pare che però ci sia anche una Bertuccia che è nello stretto di Gibilterra, al Gibilterra comunque, e alcuni esempi sono privi di coda, ma questo comunque è grande, è uno scimpanzee. Quindi lo scimpanzee in Mediterraneo comunque sia non c'è. E quindi il Kobo, lo stesso, tanti di questi animali che potevano essere solo ripresi da chi li ha visti nell'Africa sub-equatoriale. Quindi i viaggi loro li facevano frequenti, altrimenti avrebbero raffigurato dei boi sardi, dei sommari, delle acquele o di cervi, magari qualche cervo c'è. Quindi c'è questa, se qualcuno vuole, qualcuno intendo sempre quelli che ogni mattina mi attaccano, se vogliono contestare questa cosa lo facciano pure, ne parliamo, possiamo andare avanti. Allora la presenza di Egitto in Sardegna è inimmaginabile perché lo spano, il canonico spano, sto parlando di metà dell'Ottocento, del secolo del 1800, lui ne ha trovato 4.000 addirittura, ma scarabèi incredibili con cartigli di faraoni. Ora queste scarabèi sono dichiarate scarabòidi di tipo Ixos, di tipo Quir, cioè sarebbero fenici, perché il fenicio qui imperversa non c'è niente da fare, sarebbero fenici imitazioni di scarabèi egizi. Ma io mi chiedo, perché i fenici avrebbero dovuto imitare gli scarabèi egizi? Vabbè, c'erano commercianti, ma coi cartigli, se vuoi venderli in questo caso in Sardegna, che bisogno c'è di mettere il cartiglio di un faraone come Menolfi IV, di Tutmosi III, eccetera, quando i sardi con gli egizi non avevano niente a che fare? Sono scarabèi egizi con i cartigli dei faraoni conosciuti, ultra conosciuti. Ma ce ne sono 4.000, dico, al Museo di Cagliari, ma ce ne sono migliaia, il Museo di Sassari e tanti altri. Possiamo andare avanti. Tra parentesi qui, scusa Leonardo, qui lo Spano mandò un telegramma, uno scritto allo Shabbat. Lo Shabbat, per capirci insieme al conto del Roger, erano i primi studiosi dei popoli del mare nell'Ottocento, francesi chiaramente, e lui scrisse in due righe, mandando questi grafici, chiedendo «Sontile egizien?». E lo Shabbat rispose laconico «Ui, il sonde egizien?». Quindi all'estero non abbiamo problemi, possiamo andare avanti. Allora, la Corsica, a proposito della Francia, in questo museo, il cui direttore ha il mio libro, chiaramente il mio primo libro del 2002, in Corsica, se voi andate in questo museo, stiamo parlando della zona vicino a Sartene, c'è una statua, Shardana, loro dichiarano Shardana, c'è un cartello all'ingresso, e li chiamano Torren, Shardana proprio, e i corsi dicono che vengono dall'isola di Sardegna, intorno precedentemente al 1200, quindi li stanno definendo Shardana. Questo, che ha anche ancora un corno, è uno Shardana, però loro dicono che questa statua è uno Shardana, perché andiamo alla Copia a Medine Tabu. Andiamo avanti. Ecco, questa è una scena, sapete che a Medine Tabu il nipote di Ramesse II fece descrivere, anzi lo fece il figlio, ma il faraone era lui durante questa battaglia, fece descrivere la battaglia del Delta, qui sono rinfigurati Shardana dall'altra parte e tutti i popoli del mare schierati in combattimento, eccetera. Lo fece scolpire in basso rilievi nei muri esterni di Medine Tabu. Io sono stato diverse volte in Egitto, ma i primi viaggi che io facevano, di curiosità, il viaggio diciamo l'ultimo, quello del 2009, è quello più documentaristico, ma avevo in mente altre cose di un tempio che avevamo scoperto, ne parliamo dopo anche di questo, però voglio dire, è a Medine Tabu comunque questo basso rilievo e vedete che la corazza è identica, non a quella sotto, perché sono due di statue, ma quella sopra con l'elmo, è identica. L'hanno messa in discussione addirittura l'archeologia sarda ha chiesto una mano a un noto egitologo, è venuto qui in Sardegna dicendo che tutto sommato questo potrebbe non essere simile, si è prestato un po' al gioco, mi dispiace per lui perché io non dico che lo ammiro, ma lo rispetto riguardo agli altri che lo accompagnano, vabbè, è un egitologo e non un archeologo della sovrintendenza, sto esagerando, andiamo avanti. Stato di Montebrava, non ne parliamo oggi, ne parliamo solo per un motivo, questa storia di Gonellino, posso però accennare che io scrivevo delle statue di Montebrava ai primi del 2000, prima che le mandassero finalmente a centro restauri e a Lipunti nel 2005, dove stessero ancora altri anni e intorno al 2010-2012 le esposero una parte a Cagliari e una parte a Cabras. Queste statue perché sono famose? Perché non solo le figure di Cialdana, ma questo riguarda me, ma soprattutto perché ribaltano la storia della statuaria mediterranea che era attribuita ai greci nel 680 a.C. e questa attribuzione ai greci è dovuta al fatto che non c'era un'altra statue in giro, a tutto tondo intendo, non raffigurazioni di bronzetti e roba del genere. Queste statue altre due metri e due, e io le ho datate al XIII secolo, una trasmissione spagnola tipo quella che fa Giacobbo in Italia, confermò con questa trasmissione, io ho registrato, lo gigante Cialdana nel XIII secolo per farla corta, quindi hanno dato reta a quanto io scrivevo e sono importanti. Però tornando al discorso del gonnellino, vi vedete che alcuni di loro hanno questo gonnellino a punta che non ha niente a che fare con i gonnellini sardi che sono circolari, che sono tipo quelli celtici, questi hanno un gonnellino a punta che ci ricorda qualcosa. E cosa ci ricorda? Andiamo avanti. Allora, ecco Ramesse. Ramesse assiso nel trono, che parla alla sua gente dopo la battaglia di Kadesh, questo è un basso rilievo che è presente nel tempio di Abu Simbel, quello che scoprì Belsoni, tra parentesi, e c'è tutta la battaglia di Kadesh effigiata in basso rilievo all'interno. Quindi lui si fa rappresentare gigantesco, al solito non era certo un tipo modesto, parlando alla sua gente, ai suoi soldati, sopra ci sono i carri, e i più vicini a lui sono il suo corpo di guardia, composto di egiziani esternamente e di quattro guerrieri completamente diversi, come armatura, come visionomia, come elmo, come spade, come corazza, eccetera. L'unica cosa che somiglia sono i gonnellini a punta e sono i Shardana, li vediamo in basso a destra, nei particolari che abbiamo rappresentato. A differenza di altri Shardana presenti in Egitto, questi hanno il disco solare sopra l'elmo, che è sempre l'elmo connuto, che era tipico solo e esclusivamente dei Shardana. Sono stati probabilmente i primi, salvo qualche rappresentazione di divinità che è raffigurata comunque con le coni, ma questa è una divisa di un esercito, perché ogni popolo del mare ha la sua uniforme, alcuni li vedremo man mano che andiamo avanti. Ecco, questa è la raffigurazione della guardia del corpo di Ramesse. Ramesse deve tornare tanto ai Shardana perché li salvano il cadreghino a Kadesh, dove lui dice di aver vinto ma non ha vinto. Andiamo avanti. Allora, questa è l'ultima spedizione, è importante questa storia, questa è una cena di gala a lungo e nilo, ospiti del governatore di Luxor. Era una spedizione che io riuscivi a fare grazie a una mia amica che penso che sia tuttora in Egitto e comunque collabora con alcuni programmi prima della RAI, poi di Mediaset, collabora con queste trasmissioni, lei riuscì a convincere alcuni di questi dell'amministrazione della regione a partire con noi, eravano ospiti del governatore. Perché questa è una cosa importante? Perché ci diede la possibilità di andare in modo sicuro perché avevamo la scorta, avevamo un autoblindo appresso, viaggiavamo con macchine con ragazzi armati di pistole, comunque era un periodo difficile, cominciava a esserci qualche problema e io scoprì un tempio, non ne parleremo chiaramente stasera perché mi hanno chiesto in diverse trasmissioni esoteriche quelle cose lì, perché scoprì delle cose che legavano a Dendra. Tant'è vero che le prime esplorazioni furono a Dendra per altri motivi e poi saltò fuori questa storia. Andiamo avanti. Ecco qui siamo in viaggio risalendo il Nilo, andando nella zona, non ricordo se se Dendra o adesso non ricordo se a Deire e Medinet, comunque in uno di questi tempi, uno dei quali era un tempio un po' particolare. Andiamo avanti. Qui siamo a Dendra sicuramente, dove poi saltò fuori la storia dei misteri di Osiride, i legami con le lampade del sotterraneo, dove andammo a vedere, adesso penso che sia chiuso, dove sono presenti le lampade scoperte ai primi del Novecento. Perché è ancora a Dendra? Perché c'era un motivo ancora importante, perché noi stavamo viaggiando da Medinetabu sull'intenzione di risalire ancora più a sud, verso Abu Simbel. Andiamo avanti. Ecco, è uno di questi viaggi a Ramesseu. Forse una delle tappe fatte col batello era qui. Ma perché Ramesseu? Perché a Ramesseu scoprì una raffigurazione di uno Shardana. In mezzo c'è... Allora, Ramesseu è rappresentata per l'ennesima volta la battaglia di Kadesh, che la troviamo anche nel Tempio di Luxor. Ma qui c'è... Ormai è quasi tutto scolorito, non si vedono più le figure, ma io riuscii a individuare uno Shardana in mezzo a tanti guerrieri egizi. E poi vedi anche la firma di Belzoni. Non so se l'abbiamo capito, ma Belzoni è un po' il mio idolo, per vari motivi, anche perché è stato, secondo me, il maggior scopritore in Egitto, per quantità. Perché basta fare qualche esempio. Oltre a Ramesseu, che l'ha scoperto lui, e l'ha scavato lui, il Abu Simbel è opera sua. Il Abu Simbel nessuno riusciva a scavarlo, perché la sabbia continuava a frenare. Lui, con un lambo di genio, con una fiaschetta, con una borraccia d'acqua, vede che la sabbia frenava, e quindi usò l'acqua per frenare il crollo della sabbia. Comunque lo scoprì lui. E scoprì anche l'ingresso della seconda piramide, quella di Kefra, e tante altre cose. Una tomba importante, mi sembra quella di Setticlima, nella Valle del Re. La tomba di Orem? La tomba di Orem? Sì, e sono infinite le scoperte che lui ha fatto. Ho avuto l'ambasciatore inglese, se ne stava appropriando, perché lui consegnava queste cose, però non sapeva come andavano a finire. Andavano a finire a Londra, fisicamente, statua, colossi, eccetera, e poi ho scoperto anche... A un certo punto si mise per conto suo, dice basta, adesso comincio a firmare. Infatti se entriamo nella piramide di Kefra c'è la firma di Belsoni, la data, eccetera. E anche qui a Remesseum c'è Belsoni, la firma, eccetera. Quindi io questo l'ho messo perché ero tutto esaltato nel 2009 per queste scoperte di questo tempio con l'elettricità. Non sto parlando di Dendera, e un'altra, forse un giorno magari possiamo parlarne con calma di questa cosa. Però è legata comunque alla battaglia di Kadesh, c'è il Ramesse di Pinto Volcarro, classico, quello si vede ancora bene. Andiamo avanti, va. Andiamo ancora avanti. Ecco, sempre in questa spedizione, perché l'ho riportata? Perché noi abbiamo avuto modo, grazie sempre al governatore di Luxor e all'amica di cui non posso fare il nome per chiari motivi adesso, noi siamo qui, siamo al tavolo del Ministro della Cultura. A che cito questo fatto? Io sono quello con la giacca chiara, gli altri sono tutti personaggi pubblici, quindi abito scuro, gravata, io pensavo che non avessi neanche la gravata, comunque sono quello celeste, pensoso. Ho alcuni libri pronti lì. Si avvicinò una signora che era seduta più avanti, vicino al Ministro, che sta a capodavola, e mi chiese i libri. Mi raccontò che lei era la moglie del Ministro, una ex ballerina della Scala, in pensione. Il Ministro prese i libri, direi un'occhiata, fuggiamo e parliamo di questa situazione. Perché io avevo avuto delle informazioni negli altri viaggi, sui popoli del mare, qualche ragazzo volentoroso, qualche guida, gli diceva che i popoli del mare venivano dal Mediterraneo e questo va bene. Quando io assistevo, dicevano anche forse dall'Italia, ma alla terza insistenza, mi dicevano che venivano da Venezia. Quindi era una informazione fasulla, fasulla. Loro non sapevano niente dei popoli del mare, praticamente. Ne avevano sentito parlare. Cosa succede? Che dopo questa nostra visita nel 2009 dal Ministro, alcuni amici che andarono in Egitto il mese dopo, l'anno dopo, non ricordo, mi raccontarono che le guide, non vedevano l'ora quando sapevano che venivano dall'Italia, o comunque dalla Sardegna ancora di più, che quei sciardane erano popoli del mare che venivano dalle isole del Mediterraneo e i sciardane dalla Sardegna. E quindi praticamente c'era stato, come li chiamano adesso quei decreti che fanno funzionare le cose giorno per giorno, settimana per settimana, comunque decreti per cui il Ministro della Cultura di allora ordinava che i popoli del mare erano così e così, poi c'erano le televisioni che ci seguivano, quindi diffusione ne abbiamo fatto rispetto ai popoli del mare e rispetto alla Sardegna. Fu un viaggio, fu l'ultimo purtroppo, perché poi le cose peggiorarono, la situazione a livello mondiale, insomma lo sappiamo, e fu l'ultimo, ma fu prezioso, forse più di tutti gli altri. Ecco, possiamo andare avanti. La battaglia di Kadesh. Allora, la battaglia di Kadesh intanto è raccontata dal poema di Pentaur, era uno scriva, Pentaur, e la racconta, qui abbiamo fatto un sunto breve, non ne le chiamo neanche tutti gli schieramenti dall'una e dall'altra parte, però, diciamo, è la cosa più importante. Praticamente cosa accade? Rammesse che vuole riconquistare Kadesh, perché Kadesh era stata prima dell'Egitto, ai tempi di Tutmose III, il Napoleone d'Egitto, come lo chiamano gli studiosi, poi questi territori furono persi nel periodo di Ammenofis IV, per capirci, Ammenofis IV e Achenathom, non lo sappiamo, il faraone eretico, che non faceva guerra nelle campagne militari, né niente, era ammessa che era un giovane guerriero a questi tempi, stiamo parlando del 1270 circa, e c'è questa spedizione con quattro divisioni, quindi circa 20.000 uomini, di cui due terzi, sì, due terzi circa, erano composti di mercenari, di varie estrazioni. Lui racconta che furono ingannati da queste false spie, cioè due beduini, due chasu, beduini appunto, i nomadi, furono catturati, ma probabilmente si fecero catturare apposta, anzi sicuramente, e parlarono dopo la tortura, due agenti segreti insomma, e raccontarono che Muatali e il suo esercito, che non era comandato da lui, era malato, ma da Tuzil, che può diventare il re, erano ad Aleppo, quindi non erano a Kavesh. E Ramesh ci casca in pieno, perché i suoi consiglieri, i suoi generali, gli consigliano di attaccare, e quindi parte con la divisione Ra, e la divisione Ammone, da lui comandati tutti e due, e attraversano i fiumi Oronte, le altre due divisioni, Sete e Ptà, rimangono indietro, e quindi lui lancia l'attacco, col suo leone massacratore, il suo cane da guerra, fu probabilmente un molosso del Caucaso, un cane gigantesco, e improvvisamente dal bosco, dal bosco escono miriadi di carri, circa 3.500 carri, a Tuzil aveva a disposizione 37.000 uomini, contro i 20.000 di Ramesh, che però non c'erano, perché lui attacca con due divisioni, anzi una, la Rasse non è erro, rimane indietro, nei fiumi, fatica ad attraversare, e Ammone viene distrutta, quindi lui ha solo una divisione, ha solo 5.000 uomini, e chiaramente anche pochi carri, circa 300, contro i 3.500 delititi, aveva però la guardia del corpo, e molti dei mercenari scelti, tra cui Nubiani, che è ex, probabilmente libici, il Meso esce, sono i libici anche, anzi, e che è ex, sono i Beduini lo stesso, e cerca di difendersi, dopo un primo disorientamento, i lititi e i loro alleati, si attardano a saccheggiare il campo di Ramesh, lui viene circondato dalla guardia Chardana, soprattutto, e da alcuni mercenari fidati, la guardia Chardana, nell'occasione di Kadesh, era composta da 520 uomini, pesantemente armati, come sono armati nei bronzetti, che conosciamo, con l'elmo, il loro elmo qualche volta era di cuio, ma lì in Egitto pare che fosse in bronzo, addirittura, con una corazza, probabilmente anche in bronzo, l'armatura pesante era quella, e con uno spadone, che era completamente diverso dalle spade usate, ad esempio, dagli altri guerrieri egiziani, che avevano una sorta di falcetto, o qualcosa del genere, e quindi questa spada a cuneo, micidiale, perché si poteva usare sia di taglio, che di punta, e riescono a fermare i lititi, anche perché loro si attaccano a saccheggiare, eccetera. Quindi sopravviene la sera, intanto Ramessa si lamenta, eccetera, e non ci sarà un risultato, perché c'è, io nel 2001, feci anche fatica a dire che probabilmente, a mio parere, fu un pareggio, era un azzardo, però oggi molti studiosi parlano di questa, di questo pareggio, perché nonostante i vanti di Ramessa, ci sono documenti ititi saltati fuori, che la lingua itita, i testi ititi non sono decodificati da tanto, addirittura loro erano spariti dalla storia. Andiamo avanti. Praticamente la cosa è confermata da un trattato di pace, il primo della storia, che esiste in Egitto, chiaramente stampato in papiro, ma esiste anche da parte itita, e questo è quello da parte itita, è conservato nel museo di Istanbul. Fu un trattato voluto assolutamente da due donne. Oggi pensare all'antichità, con un trattato internazionale, affidato a due donne, ma non è che l'hanno stampato loro, fu un'idea di Pudueppa, che era la moglie di Muatali, ma di Atusil, perché Muatali pare che muoia immediatamente dopo Kalesh, il trattato si stipula qualche anno dopo. Chiaramente era Nefertari, la moglie, la grande sposa di Ramessa. Quindi viene firmato questo trattato, da ambo le parti, due lingue, per evitare attacchi da parte degli Asiri, che era la nazione emergente come nazione pericolosa. Purtroppo avevano fatto male i calcoli, sia lì ititi che Ramessa, perché il pericolo non arrivava dagli Asiri, arrivava da Occidente. Lo vedremo. Allora, facciamo qualche parentesi e vediamo che i popoli del mare, se vogliamo continuare a chiamarli per comodità, i popoli del mare, erano presenti in Egitto già dai tempi, intorno a 1750, nella storia di Mosè e dell'invasione Ixos, che non era un'invasione, perché loro erano già lì, erano nell'Egitto del nord, quindi nel basso Egitto, nella zona di Avaris, dove loro hanno sempre vissuto e hanno continuato a vivere. Non è vera neanche la storia della cacciata, l'Ixos, nel 1550, l'opera di quei due fratelli. Comunque, Giuseppe è raccontato dalla Bibbia, lui e il suo padre, Giacobbe, hanno dei nomi egizi. Addirittura Giacobbe è un re del periodo dell'Ixos, e tutti e due sono stati imbalsamati. Questa è confermata dai racconti ebraici, ed è importante. E la Bibbia chiama Giuseppe padre di Faraone, quindi lui è il personaggio Giuseppe, non so se chiamasse così, ma questo personaggio è arrivato con l'Ixos a comandare sia il basso che l'altro Egitto. Sappiamo la storia di Giuseppe, che prima è schiavo, venduto, poi sposa la figlia del gran sacerdote, Asenate, e poi diventa padre di Faraone, perché lui era subito dopo il Faraone, ma pare che suo figlio diventasse Faraone a sua volta. Quindi era già di nobile. Poi, la tribù di Giuda, che ha relato la Bibbia dopo l'esilio di Babilonia, che ha riscritto la Bibbia con Esdra, la racconta pro Giuda, quindi la racconta come il fatto che Giuseppe era un giudeo, un po' come tutte le mitologie antiche. E quindi c'erano già presenti. Di Giuseppe probabilmente hanno trovato sia la statua sia la mummia. La mummia è identificata con quella di Yuya, che chiaramente ha creato discussioni a non finire, perché la mummia si è attribuita a Yuya molto più recente, nel periodo di Achenaton, nel 14esimo secolo. Ma la statua pare che sia proprio quella del personaggio Giuseppe, con questa veste strana di cui parla tanto la Bibbia, eccetera. Quindi era nella città di Avaris, che era e rimase la capitale degli Egizi, dove abitavano comunque gli ebrei, nel periodo raccontato dall'Esodo. Stiamo parlando di Gessen, o Konsen, quindi vicino alla frontiera del delta, del delta orientale. Possiamo andare avanti. Adesso rasantiamo un po' il discorso, ne parlavo ieri con te Leonardo, che rasantavamo la storia di Mosè, ma non ne parleremo, non ne parliamo, perché... Parleremo in un'altra puntata, vai. Sì, se voi, se volete, sono felice di farlo, perché c'è tanto, veramente. C'ho scritto due o tre libri sopra. Volevo dire che una dei particolari, che negano questi miei amici, chiamiamoli così, gli archi o buoni, è il fatto che i popoli del mare erano circoncisi, e i Shardana no. Ora, a parte il fatto che abbiamo dei bronzetti con tanto di circoncisione, vedete quello in basso a sinistra, che sono le laonedas, quello strumento sardo a tre corde, che è come la corna musa e la zamponia, altri strumenti, ma c'è rappresentata in un basso rilievo vicino alla piramide di Sakara, e rappresenta la circoncisione di un giovane, quello a sinistra, in alto, tenuto per le mani, perché è un ragazzino, quindi va tenuto, come per i vaccini, e a destra la circoncisione di un adulto che spavaldamente poggia la mano sull'infermiere che gli sta facendo la circoncisione, ma è datata a 2450, quindi non è il Mosè e quello dell'Esodo che ha inventato la circoncisione, permettetemi questo accostamento su volere di Dio, i popoli del mare erano già circoncisi, abitavano l'Egitto anche in questo periodo e comunque in Egitto c'era già la circoncisione, quindi casomai il popolo di Mosè lo apprende da Mosè perché era egizio, Mosè, ecco, adesso l'ho detta, va bene, andiamo avanti. Ecco, vedete ancora Mosè, però questa è una scena di un film e lo cito perché la prima inquadratura di Chardana degli anni 50 in questo film I Dieci Comandamenti di Cecil de Mila che è il secondo film che faceva su... Ma questo è un capolavoro con intepeti incredibili perché c'è Jules Briner nella parte tra messe, lo vediamo di spalle, e Mosè che è già diventato Mosè ebraico che è certo onesto e vedete in fondo alla sala ho pescato uno Chardana quello gigantesco con le corna inconfondibile ma all'inizio del film ci sono alle spalle di Seti I Ramesse non è ancora faraone, anzi sta per diventarlo Mosè, alle spalle di Seti I del padre di tutti e due e ci sono quattro giganteschi Chardana armati di tutto il punto quindi quel film e poi parla dei mercenari di Seti I anzi di Ramesse che inseguiranno Mosè e li chiama mercenari sardi quindi è una conferma anche del fatto che i Chardana sono sardi vabbè possiamo andare avanti scusate di questa roba cinematografica chiaramente ci sono le citazioni di Chardana in molte stelle e questa addirittura racconta chiamata la stella di Chardana ha un altro nome il Chardana del mare dal cuore ribelle questo c'è di mezzo Ramesse secondo lui chiamava Chardana dal cuore ribelle che nessuno può combattere per la cronaca io ho composto una musica che hanno un ode che hanno musicato un gruppo degli anni 70 io vengo da quella gioventù degli anni 70 è su YouTube non c'entra niente però è in lingua Chardana comunque il Chardana dal cuore ribelle che nessuno ha mai potuto combattere arrivarono dal centro del mare a bordo delle loro navi da guerra nessuno ha mai potuto contrastarli questa è una frase di Ramesse secondo in questa stella andiamo avanti poi ci sono altre citazioni la stella di Tannis lo stesso nel racconto andiamo avanti e qui abbiamo una mappa una mappa dell'invasione dei popoli del mare perché se la battaglia di Kadesh è chiamata la battaglia la prima guerra mondiale per lo schieramento dei tanti eserciti che c'erano qui abbiamo una seconda guerra mondiale che è molto più imponente perché riguarda tanti racconti che noi abbiamo letto anche grazie ai greci altri popoli e anche gli egizi chiaramente e noi abbiamo letto raccontate in modo non ingannevole ma con nomi che non non ci parlano dei popoli del mare o meglio ce ne parlano ma non le riconosciamo allora lo scenario è questo 1200 succede qualcosa la racconta bene Ramesse terzo il nipote Ramesse secondo nel papiro Arris raccontate i popoli del mare fecero un patto nelle loro terre quindi non fu un'invasione barbarica con le famiglie tipo l'invasione del tempo della caduta dell'impero romano no fu ognuno con le sue divise sono eserciti potenti ben distinti fra loro ma comunque della stessa etnia si capisce non è una semplice alleanza e li vediamo che sono alleati fra di loro e hanno fatto un patto fra loro cosa avevano fatto praticamente non solo per gli egizi come Shardana ma con gli egizi c'erano ad esempio anche i Libu c'erano i 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 anche con altri popoli. Prendiamo Troia, ad esempio, nel racconto di Omero, che un po' è mascherata, ma non tanto, poi abbiamo un racconto che parla di Achille, che è una caillasa, quindi veniva dalla penisola greca, ma è un acheo a caillasa. Achille, quando Agamemnon pretende di portarli via la schiava Briseide, perché il consenso dei re ha deciso di portarli via la figlia di Cris, sacerdote di Apollo, per cui Apollo scatenò la pestilenza con le sue frecce, Achille sfodere la spada e sta piombando su Agamemnon e farlo fuori. E dice che lui non si prenderà un beniente. Ha un atteggiamento che già non è da generale di un esecito comandato da generale di generale, in questo caso Agamemnon, e quindi di una nazione che comanda vari eseciti. Allora, lui viene fermato dagli amici, piuttosto che da Binerva o come diavolo si chiamava, però dice ad Agamemnon, trattenuto dagli amici, altrimenti lo sbudellava davvero, faccia di cane, tu a me non rappresenti niente, io non sono qui per combattere contro i jacker, contro i troiani, i teocri, che a me non mi hanno fatto niente, sono qui perché sono un uomo di guerra, quindi sta parlando da mercenario, che è a servizio di Agamemnon in quel momento, raccontato da Omero in quel modo eccetera, però è un mercenario. Allora, quindi questi si mettono d'accordo, fanno un patto e a cominciare dai Denen, citati dagli egizi a fianco ai Shardana, perché io nel primo libro feci un errore clamoroso, nel raccontare la guerra di Troia, che è un fatto di famiglia, quindi ci sono tutti i popoli dei mari a Troia, da una parte e dall'altra, nel raccontare questo tema, pensai che i Danae, descritti da Omero, non erano i greci e non lo erano comunque, ma erano i Shardana, invece no, erano i Denen, che gli egizi identificano in quei Denen che erano andati nel Baltico. Allora cosa accade? I Denen scendono con la loro flotta, i Denen, i Vasascia e forse i Pelesetta e i Shardana avevano loro le navi. I Denen fanno un tragitto o via Fluviale, come ho messo lì, oppure passando dallo stretto di Gibraltar, entrando nel Mediterraneo e insieme ai Tursha, i Vasascia, i Shardana, i Libu, i Shakalasa del Mediterraneo occidentale, anche i Liku, immagino, o sui Liguri, si incontrano probabilmente o a Creta o comunque nei pressi della Grecia. Perché? Perché il loro obiettivo primario era Tirinto e Micene, che sono le prime città dove le rocche vengono distrutte. Loro non avevano sotto tiro le città, avevano le rocche, il comando, quindi fanno fuori varie gambenone della situazione, e cosa fanno? Proseguiranno insieme agli abitanti di Bicene, Tirinto, eccetera, quindi gli Acajasa e gli Achei, e qui la cosa di Omero è veritiera perché vanno verso Troia, quindi gli Acajasa ci sono, ma gli studiosi raccontano che in quel periodo la Grecia tornò a un quinto della popolazione, quindi vanno via, gli Acajasa vanno via come tutti gli altri popoli, abbandonano il Mediterraneo e proseguono dove, stavolta verso Ilio, Troia, dove si svolgono tutti questi fatti come le racconta Omero, o quasi, e vediamo che ci sono ad esempio i Liku, quindi i Lici di Sarpedonte e Glauco, ci sono i Dardani di Enea, che abitavano la zona vicina ai Dardanelli, le isole da cui partirono per i Valle del Creta nel 1450, ci sono i Jacker, che sono i Teocri, ci sono gli Acajasa, che sono gli Achei, e ci sono una parte, descritto da Omero, e ci sono una parte dei popoli del mare. Una volta distrutta la rocca di Ramenone, escono, vanno via, non ci fu la fuga dalla città incendiata e lo vediamo anche perché Enea, che è uno dei Dardani, non è un troiano come ci ha raccontato Virgilio, ma è un Dardano, va via con loro. Non è che io sono imbazzito e dico che Enea mi metto contro Virgilio e contro questa, no, ci sono le date, ci sono gli scritti e ci sono i fatti. Quindi, andiamo ancora, torniamo ancora a Ilio. Da Ilio vanno via verso dove? Verso Attusa. Ecco, ad esempio, anche Attusa non viene distrutta la città, viene distrutta la rocca. Ed è stato confermato qualche anno fa di questa cosa strana, che non si capisce perché, gli studiosi non capiscono, perché la città di Attusa non è distrutta, ma la rocca, la fortificazione, soltanto è incendiata e rasa al suoro. Per questo motivo, perché anche i Littiti erano dei loro popoli del mare, infatti si uniscono a loro. E anche i Littiti noi li ritroviamo dove? In Palestina. Ma perché da Attusa proseguono verso le città di Canaan, quindi Tiro, Sidone, Biblos e tutte quelle città, per poi proseguire verso l'Egitto, con una tappa, ma penso solo una parte di loro, perché io non ho trovato né Shardana né Libu a Ilio, a Troia, nella guerra di Troia di Omero almeno. E quindi penso che attaccassero Ugarit. Ugarit viene distrutta nel 1180, mi pare, in una giornata senza sole. C'era un'eclisi, quindi abbiamo anche l'ora e il mese, se vogliamo. Ce l'abbiamo comunque. Comunque dalla Palestina proseguono verso l'Egitto e lì ci sarà la battaglia, andiamo avanti, ci sarà la battaglia, due battaglie. Ecco, questa è la descrizione francese. La striscia azzurra è quella delle navi, compuntata Ugarit, e quella marrone è quella degli eserciti di terra. Scendono, poi vanno verso l'Egitto, eccetera. che lì si confronta. Questo fatto, questo mettersi d'accordo che racconta la Messe III nel Papiro Ares, era dovuto a un sollevamento del mar Mediterraneo, in tutto il mare Mediterraneo, di due metri e mezzo. Ma cosa vuoi sia due metri e mezzo? Sì, ma due metri e mezzo di sollevamento del mare, repentino, voglio dire, in giro di qualche mese, non dei secondi, ma forse di un anno o due, vuol dire penetrazione del mare di 30 km nella terraferma, chiaramente nel pienure, e quindi l'inquinamento delle falde, acquifere, dei campi, non si poteva più vivere, tutto il Mediterraneo, e quindi questi hanno deciso di invadere l'Oriente, questi piccoli e potentati, in cui loro comunque erano quelli che facevano comunque loro la guerra, quindi l'invasione è stata facile. Andiamo pure avanti. Ecco, queste alcune descrizioni della battaglia del Delta, vedete che alle volte ci sono i Shardana che sono uno contro l'altro, ce ne ha adesso a sinistra, perché in Shardana alcuni combattevano gli egizi. E questo ha portato, probabilmente dopo una prima scaramuccia, a un parlamentare fra di loro, cioè l'esercito del popolo del mare e il parlamenta con gli egizi, tramite i mercenari che erano presenti, fra cui Shardana, e noi immaginiamo un discorso del genere, questi invadono l'Egitto, li vanno incontro l'esercito egizio, ma cosa volete? Insomma, noi siamo gli egizi, o la prima potenza del mondo, insieme agli Etiti, ma non ti preoccupare, abbiamo già distrutto sia gli Etiti, distrutto, cioè, distrutto il comando, sia degli Etiti che di Troia, tutti potentati e loro riconosciuti. E quindi sopravviene a un'alleanza, a un armistizio, come accade a Kadesh. Ma anche questo è provato. Perché è provato? Perché noi, dopo questa data, stiamo parlando del 1180, quindi in Egitto arriviamo nel 1180, noi non troveremo più un soldato egizio in Palestina o in Israele o nei racconti dell'entrata del popolo di Israele o di Giuda o popolo comunque di Mosè, non incontrano un egizio, nessuno si scomoda a parlarne, non ci sono più presenze egizie nelle province dell'impero. Quindi Ramess è il terzo, si accontente di salvare il trono, quindi il regno, ma dovrà abbandonare le province della Silvia, la Palestina, dei Sinai, le miniere quindi anche, che saranno popolate da questi popoli del mare. Anche di questo abbiamo le prove e le stritte. Andiamo avanti. Questa è un'altra scena. Vedete comunque una curiosità, ma non ne parliamo oggi. Tutte le navi dei popoli del mare sono senza remi e tutte le navi egizie sono con i remi. Non è un errore dello scultore che l'avrebbe tagliato la testa immediatamente, ma c'è un motivo. Probabilmente questi signori, se torniamo un attimo indietro, Leonardo scusa, c'è stato un ingegnere di Cagliari, ha studiato questa mia supposizione, vedete quel grafico che c'è in alto? C'è una nave egizia con i remi, una nave dei popoli del mare senza remi. Probabilmente andavano a vela, come chiamarla, a vela moderna. Cioè andavano senza remi. Conoscevano già l'idea della vela moderna, che poi è scomparso, come altre scoperte, nel Medioevo Antico. Andiamo avanti. di due. Avanti ancora. Allora, Ramesse dice di aver vinto come nonno, Vanaglorioso, dice di aver vinto contro il popolo del mare, ha sterminato Chardin e Keke, i Jecker, eccetera. Poi però, sempre nel papiro Ares, si lascia sfuggire qualcosa che lo smentisce immediatamente. Io ho consentito all'esercito da guerra e ai carri di stare fermi, parla dei suoi, e anche ai mercenari, Chardin e Keke, quindi ancora i mercenari, di stare sdraiati sulla schiena nella loro città, che io gli ho dati insieme a vestiti, eccetera. Lo scritto è lungo, però dice questo. Lui praticamente come i padri, il nonno, il nonno, secondo e altri, li ha soldati. Non tutti, ma alcuni, perché altri li troviamo, andiamo avanti, dove? Questo è uno Chardin, per smentire una dichiarazione di questo amico geologo che è venuto a Darmanfort agli archeoboni, perché praticamente i pronzetti sardi sono diversi da questo Chardin che ha sia la barba che l'elmo col disco solare sulla testa. Poi però, avevano appena raccontato che il disco solare c'era solo la guardia, la guardia scelta, che è vero, ma questo è uno degli invasori, perché ha il disco solare? Non è curiosità, andiamo avanti. Ecco, questa è interessante, perché è confermata dagli scritti egizi. Noi abbiamo, in Israele soprattutto, e parlo di Israele come Regno del Nord, non sto parlando degli ebrei come ebrei in genere, in cui si intendono quelli della tribù di Giuda, al massimo quella di Simeone, parliamo del Regno del Nord, di Israele, che è stato alleato con il Regno di Giuda, un periodo dopo Davide e Salomone tornano comunque a strada contro loro. Beh, gli egizi in primis raccontano che lì c'erano Shardana, Shardana d'Acco, a San Giovanni d'Acri, la città dei Templari, che ha avuto una storia anche nelle navi di Tarses di Salomone, lì salpavano per andare per i viaggi di tre anni a Ufire e altri luoghi. C'è una saccalasa, sono state trovate montagne di ceramiche uguali a quelle di Saccalasa nel Monte Desuere in Sicilia, ma sono state trovate montagne di ceramiche sarde ad Acco, Acco e San Giovanni d'Acri, dove il libro di Deborah racconta che abitava nei Shardana, che abitava la tribù di Dan, in questo caso, anche se molti dicono io faccio discendere i Shardana dalla tribù di Dan, è una menzogna che la tribù di Dan era una parte di questo periodo che faceva parte dei Shardana che si era insediata in due luoghi, in un primo tempo vicino ai Peleset, in un secondo tempo gli ad Acco e un po' più su a la zona appunto della tribù di Dan, sopra il Saccalasa, poi abbiamo i Jacker a Dor, ma dei Jacker abbiamo una testimonianza di un racconto inviato di un emissario del gran sacerdote di Tebe, di Duxo, quindi, che va lì, che va a Biblos a chiedere questi pali di cedro e non vuole pagare perché dice che il padre del sindaco di Biblos gli dava grazie e il sindaco di Biblos dice guarda che tempi sono cambiati, qui non avete più autorità e quando sta raccontando questa cosa arrivano dei loschi figure che sono i Jacker che dicono praticamente non vi preoccupate lo prendiamo tutto noi in consegna. Cosa ci facevano i Jacker a Biblos e soprattutto cosa ci facevano i Jacker a fondare una città chiamata Dor che è citata da un re spartano come loro origine? Un re spartano è citato anche nella Bibbia nel libro dei Maccabei e scrive al gran sacerdote di Gerusalemme dicendo noi siamo fratelli con voi siamo della stessa tirpe di Abramo ecco sta confermando due volte quello che io ho scritto in passato e che altri penso scriveranno ancora del fatto dell'origine da Ur quindi anche di Abramo eccetera e di queste poppe e comunque da Dor vuoi vedere che i Dori non venivano dal nord ma venivano dalla città di Dor? Certo che sì andiamo avanti chiaramente c'erano i Belesetti mi sono dimenticato ma ecco alcune citazioni papiro Anastasi i Shardana alla dipendenza del faraone fecero prigionieri i loro fratelli quindi la battaglia è delta gli uni contro gli altri onomastico del Menemope 1100 a.C. tempi sono quelli Shardana d'Acco tempi del racconto di Deborah del racconto di Deborah che combatte contro un generale Shardana si chiama Sisera un archeologo che è morto lo scorso anno purtroppo archeologo che ha scoperto una città Shardana lui la chiama così Adalawat che io ho identificato con Art Rosetti Coim di questo generale si chiama Sisera io l'ho incontrato a Cagliari Adam Zertal e ho chiesto ma mi dica una cosa ma secondo lei Adalawat che lei ha scoperto che chiama città Shardana perché c'è anche un uraga eccetera ma può essere a Rosetti Coim ma certo questa è un'ipotesi molto attendibile è di Sisera cosa ne pensi guardi Meles Sisera non è un nome delle nostre parti a parer mio deriva da un nome sardo parole sue secondo me deriva da Sassari io feci una risata perché Sassari è una città medievale ma non è detto perché Sisera è un nome non dico di una città soltanto ma anche di una località quindi questo archeologo e non solo lui ha confermato la presenza di questo generale che comandava 900 carri ferrati e 5.000 uomini il papiro Wilbur della ventesima dinastia racconta che nel catasto del faraone figurano donazioni e terra e Shardana nel papiro Ares l'abbiamo detto dice di aver vinto per la prima volta di Terribile Shardana il poema di Pentaur il racconto della Messe II il poema di Venamu è quello che parla della missione di un funzionario egizio a Canaan alla presenza dei popoli mari Jecker in Palestina già nel 1100 a.C. anche il poema di Venamu è datato nel 1100 quindi siamo immediatamente dopo l'armistizio della battaglia del Delta poi c'è la stella di Ramesse e tanti altri andiamo avanti se siamo irritati Leonardo interrompimi o accelerano magari non so quante diapositive c'è ancora per ora siamo siamo sì scusa devi siamo abbastanza in linea siamo un'ora e quattordici di conferenza è volata via come come un treno molto interessante interessante anche ho visto c'è diversa gente che è collegata in linea quindi l'argomento è molto interessante niente quindi ancora per un quarto d'ora venti minuti possiamo andare perfetto allora mi regolo così allora e questo torniamo un attimo al discorso di Enea allora sia l'Iliade sì l'Iliade scusate sia l'Eneide di Virgilio ora Virgilio fu un grandissimo poeta doveva continuare a fare poeta perché un messonico fa Cilecca da tutte le parti cosa racconta lui intanto lui racconta che Enea fugge da Troia in fiamme ma quello lo racconta Omero lui ha preso accoppiato di sana pianta va bene e nella sua fuga verso l'Italia va bene territorio italico più su della Calabria va in tempo a fare una visita a questa principessa che sta fondando Cartagine e poi proseguire verso il suono italico allora Troia non perché lo raccontò io ma perché è riconosciuto dalla scienza ufficiale da tutta l'archeologia ufficiale e dalla storia ufficiale è stata distrutta nel 1200 vanti Cristo siamo a 1200 Cartagine se non erro è stata fondata intorno all'815 avanti Cristo circa 815 sempre testi scolastici riconosciuti quindi Enea che non era un troiano ma era un darda quindi l'errore è doppio ci ha messo 400 anni per arrivare in Italia Enea o chi per lui cioè la gente di Enea ma allora voglio dire questi quando sono usciti da Troia se saranno fermati da qualche parte sono fermati dove abbiamo visto per 350 anni poi pian piano alcuni di loro quasi contemporaneamente devo dire intorno all'VIII secolo tornano tutti nei mari dei loro padri nelle terre dei loro padri dell'Italia quindi Enea o chi per lui non torna direttamente da Troia in fiamme ma tornerà nell'VIII secolo circa avanti Cristo così come la principessa che fonda Cartagine che non è che non è una Fenicia è una Libu ecco perché fonda Cartagine perché torna a casa dei suoi padri anche lei perché a Tiro c'erano i Libu io in quella cartina mi sono dimenticato di citare i Libu e che abitavano Tiro ecco perché si parla di una principessa Tira andiamo avanti ecco lo scenario è questo prendiamolo a destra verso sinistra la partenza forse sotto la pressione a Siria voi perché le condizioni dei vari che viaggiavano avevano detto che si poteva tornare a casa alcuni c'erano ancora non erano fuggiti tutti e tornano quasi tutti a casa loro vediamo i Ciardani in Sardegna i Dardani sono quelli di Enea quindi sappiamo dove andranno i Liku li ho messi anche in Lucania vicino alla Lucania ma probabilmente sono i Liguri i Libu sono i Cartaginesi i Sacalasa sono i Siculi i Tursha sono gli Etruschi poi ci sono gli Eneti che sono parenti di Agameno dice la mitologia quindi legati anche loro alla guerra di Troia i Dardani li troviamo anche sia nell'Albania del Nord vicino al santuario di Dodona che richiama la storia della nascita di Perseo e di Tana e sua madre dove c'è il Dodona fondata dalle Tanaidi di Acayasa spariscono ma a parer mio tornano in Grecia e soprattutto i Jecker che vanno ad abitare Sparta e di questa alcune di queste abbiamo le prove sotto gli occhi fra poco che non possono mentire per le sette sappiamo che si fermano in Palestina eccetera eccetera andiamo avanti città questa è una una città che ho scoperto io adesso si sta appropriando la sovrintendenza dopo aver detto che sulla giara non ci sono insediamenti c'è un'intera città lunga quasi un chilometro con statue e abitazioni di varie epoche comunque io l'ho l'ho pubblicato e si mischiano chiaramente perché noi in Sardegna troviamo molti pelle sette ma troviamo Chardana in Detrudias troviamo Chacalasa che fonda una città in Sardegna in Dardania in Ienea eccetera andiamo avanti Sarduspater è un pelle sette ecco il pelle sette ad esempio hanno scoperto un'urna identica a quella che ha scoperto Liverani vicino a Tiro le urne per le sette questa è datata al decimo secolo è stata trovata a Nabui una città a Chardana che danno ai fenici però i fenici arrivano nell'ottavo secolo come faceva questa a farsi tumulare nel decimo secolo non vabbè lasciamo perdere queste polemiche andiamo avanti ecco facciamo un esempio allora l'archeologia che non è la storia ma è una grossa parte della storia conferma quella le teorie storiche di alcuni azzardati vediamo questi elmi ce n'è a cominciare dall'alto e sinistra uno è Tuscia quindi Etrusco il secondo è Chardana trovato a Solchi in Sant'Antioco il terzo è ancora Tuscia quindi Etrusco quelli sotto sono a Cagliasa nella Magna Grecia a Gela e l'ultimo è dei Gec spartano quindi questi popoli dopo il ritorno in occidente hanno continuato ad avere gli stessi usi che avevano quando sono stati lì in Oriente e hanno combattuto hanno fatto hanno abitato eccetera questo elmo è la fotocopia di tutti gli altri ognuno cioè voglio dire non potevano non essere fratelli e della stessa origine servono tutti questi e non solo gli elmi però questa è una prova andiamo avanti la presenza dell'Egitto in Sardegna lì adesso sono in Egitto quello a destra hanno trovato la sovrisidenza è alto circa 10 cm il museo di Cagliari e quello a sinistra l'ho scoperto io nel museo di Cabras è spezzato è uno a quattro piani quindi prima di Cristo è datato è diviso in quattro è buttato lì ancora sono stato lì la settimana scorsa volevo fotografarlo mi hanno detto non si può fotografare ma io le foto le avevo già fatte l'ho pubblicato su Shardana la Bibbia degli Urim e ho detto di cosa si tratta andiamo avanti ci sono delle stelle addirittura questa è una tripice invocazione in geroglifico la triade di Tebe amo Mut e Consul il figlio questa sarebbe per loro parlo sempre degli archiobori opera di un felicio che venendo in Sardegna passò di striscio in Egitto imparò l'arte dei geroglifici e poi scolpiva questa stella cioè geroglifici li impari nei fine settimana prima di arrivare con l'aereo in Sardegna andiamo avanti che mi viene da piangere questo è un regalo che faccio per i fratelli etruschi Leonardo non arrabbiate però questo lo scrive Festo allora questo è uno scritto di Festo scrittore romano sai che i re romani erano lugumoni etruschi Festo nei ludi capitolini dice due frasi su una non sono completamente d'accordo ma la prima dice chiaro regge soliti sunt esse etruscorum sono soliti essere redi degli etruschi qui Sardi a Pellantor apriti cielo Sardi sta per la città di Sardi ma scusate io ho fatto il latino costretto perché ho fatto il classico ma parlavamo in latino a scuola quindi il latino lo conosco bene lo conosco nelle varie declinazioni coniugazioni dei verbi che so che alcuni verbi ne hanno diverse e so che a Pellantor è un plurale è una terza persona plurale non è Sardi la città che è terza persona singolare Pellantor cioè si chiamano Sardi loro stessi si chiamano Sardi ma questo continua anche con una frase molto azzardata su cui non sono d'accordo dice qui a Etrusca Gens orta est Sardi per cui la gente etrusca è nata da Sardi non sono d'accordo perché erano fratelli nessuno è nato da nessuno erano fratelli però gli scrittori romani azzardavano queste cose ma perché perché alcuni molti bronzetti come quello che c'è il rappresentante disegnato sia a destra che a sinistra in un museo etrusco molte tombe di principesse sarde trovate lì viceversa in Sardegna all'isola di Teolada ho trovato una montagna di ceramiche etrusche quindi c'era questo la zona occidentale della Sardegna la zona di Tarros ha tutti i nomi etruschi perché Turs torniamo a quello che c'è nella stella di Nora Turs vuol dire sia Tiro sia Tursa quindi Etrus sia Tarros sia Tirso sia Tiria sono tutti i nomi che noi troviamo lì andiamo avanti di corsa sto parlando era una curiosità una scrittura dei popoli del mare riconosciuta dall'Accademia dei Lincei è stata trovata nel Genargento scrittura dei popoli del mare in questo caso nel Genargento è Sciardana Giovanni Garbini un noto orientalista l'ha riconosciuta come scrittura dei popoli del mare anch'io l'ho riconosciuta lo so leggere però dice che Filistea ma santo c'era vabbè che c'era no questo scambio c'era ma se la trovi in Sardegna per prima cosa dighi a Sciardana poi vediamo se è anche Filistea andiamo avanti e qui c'è colui che attribuisce la scrittura alfabetica ai popoli del mare Sir Leonhard Vuley lo scopritore di Ur e del diluvio universale quello raccontato dalla Bibbia scoperto nel cimitero di Ur amico di Lorenz d'Arabia ma anche di una grande scrittrice inglese in cui marito era un legitologo importantissimo perché è Ramesseum ma non posso parlarne oggi perché siamo in ritardo ma comunque era una cricca Agatha Christie Lorenz d'Arabia Sir Leonhard Vuley ho mangiato al loro tavolo a Luxor quindi mi hanno detto che era il loro tavolo il ristorante vabbè andiamo oltre andiamo oltre ecco stiamo terminando questa è la famosa Stella di Nora a destra dove c'è la scritta che io ho interpretato come padre o babbo anzi babbo babbo si usa in Sicilia in Sardegna e in Toscana soltanto sarà una combinazione padre in latinismo la scritta è provata perché adesso questa è esposta nel Museo di Cagliari c'è scritto in Sardegna la traduzione di Bussod io posso provare stasera che ha ragione Leonardo Mese il coccio che c'è a fianco è una mia scoperta di un coccio che loro hanno buttato in un magazzino in un museo di Sass e scoperto a Pozzo Maggiore c'è la scritta e altre scritte come l'Alef la scrittura sinetica quella che ha trovato Nessina e le grandi Manuela Natti andiamo avanti ho dei testimoni al di fuori di ogni sospetto passi per il canonico spano che è il padre dell'archeologia sarda che ha interpretato la stella di Nora e dove sta scritto in latino giù a sinistra se lo vedete poi ho fatto la traduzione approssimativa questo abbatte Harry la tradotta e dice che va tradotta in questo modo ab sardana va tradotto con ab quindi parola sumerica ma non solo ma anche ebraico antico e aramaico ab padre sardone non in Sardegna ma padre babbo sardo fece vela verso Tarsis e con un altro anche Tarsis lasciando questa stella scritta in Nora scritto così l'ho pubblicato in uno dei miei ultimi libri possiamo andare avanti vediamo se c'è il documento no torno un attimo indietro perché allora il canonico spano riporta questa questa scritta a una prova fornita purtroppo non l'ho non te l'ho mandata alla slide ma c'è una statua che scopri un noto personaggio noto non a livello sardo ma anche e soprattutto sardo ma perché c'era il regno di Sardegna ma a livello italiano e non solo il generale della Marmora che era un studioso della Sardegna scoprì questa statua dove che era la statua che i sardi inviarono al santuario di Delphi nel IV secolo o 400 a.C. nessuno ricordo dove c'è scritto alla base della statua c'è scritto la stessa parola scritta in lingua dei popoli del mare in alfabeto antico e quindi lui conferma il generale della Marmora e conferma ancora il canone di Cospano questa frase cioè quindi padre padre Sardà non in Sardegna mi dispiace ma è così e questi due testimoni penso che siano sufficienti per quanto io ho scritto e per quanto io ho dibattuto grazie vi ringrazio della pazienza io mi bevo un bicchiere d'acqua grazie allora ringrazio noi abbiamo ancora diverse persone che ci stanno ascoltando possiamo dedicare qualche minuto se ci sono delle domande io ho una domanda che mi parla di un accenno all'ottavo libro dell'Odissea da dire qualcosa in particolare qui Leonardo bisogna vedere che cosa sull'ottavo libro perché l'ottavo libro racconta diverse cose ma che cosa sull'ottavo libro vediamo se ancora in linea Gianfranco se vuoi farci questa richiesta una precisazione lo ringrazio sì ecco poi c'è Diana carissima amica che dice che Erodoto nelle sue storie parla di una circoncisione sì certo ne parla non so se l'ho se l'ho fatta l'ho mostrata un attimo ma non ho spiegato la questione di Erodoto perché Erodoto parla dei colchi e dice che venivano dall'Egitto e praticavano la circoncisione il loro lino era bello quanto quello dell'Egitto ma il loro lino era chiamato sardonico ora i colchi noi sappiamo chi sono ricordiamo gli argonauti il vello d'oro il vello d'oro io ho trovato ma in un altro libro in altri scritti eccetera di cui non parliamo adesso ma il vello d'oro avrei dovuto fornire la slide era molto interessante quello d'oro è il bisso l'antico bisso che forniva gli altri di cui era composto l'abito del gran sacerdote o del faraone è un tessuto d'oro che viene dal mare da una conchiglia del mare l'unica tessitrice o comunque l'ultima sopravvissuta tessitrice di bisso che è mia amica comunque che dice di essere discente della tribù di Dan mi ha riconosciuto senza che mi conoscesse e abita a Sant'Antioco e è invitata dal Papa invitata in tutto il mondo per parlare di questo bisso che lei pesca non so se ancora pratichi là i tuffi per andare a pescarla riesce a pescarla senza uccidere la conchiglia è l'unica che riesce a farla fino a oggi e tessitrice di bisso è un filo d'oro filo d'oro era molto più raro della porpora il costruttore dell'arca Oliab di Dan era un tessitore di bisso un tintore di porpora 400 anni dei cosiddetti felici interliatore eccetera e costruisce l'arca Oliab di Dan uno della tribù di Dan quindi tessitore anche il bisso era così interliatore già risposco Gianfranco la nave Calcino da Ulisse per tornare a Itaca ah questa è bella lo sospettavo forse ha accorto la mia curiosità di quelle due imbarcazioni una egizia e una dei popoli del mare in particolare penso Shardana sulla faccenda del timone e non aveva né timone né timoniere noi l'abbiamo ricostruita in Sardegna l'ha ricostruita un noto ingegnere Omero dice che le navi dei Feacci vanno per il mare senza timone né timoniero né timoniere ma col pensiero dell'uomo questo più che alla vela è dedicato al fatto della scoperta della bussola con l'aiuto dell'ingegnere Mario Pinkerle i Shardana e i popoli del mare avevano una bussola installata a bordo nella brua che è menzionata anche nella storia degli Argonauti e di altri l'ha ricostruita Mario Pinkerle io poi ci sono andato appresso rifacendo la storia sui popoli del mare eccetera insomma ecco questa citazione riguarda le navi le navi dei Shardana nel Delta sì certo il libro ottavo non hanno bisogno di timone né di timoniere ma vanno col pensiero dell'uomo è una nave speciale comunque navi speciali navi speciali per popoli speciali come si dice per popoli speciali vediamo se c'è qualche altra domanda aspettiamo un attimo quello che volevo dire che io approfitto della presenza di Leonardo dell'amico Leonardo per invitarlo a farci qualche altra bella altro bel racconto specialmente su Mosè anche una cosa molto interessante se è disponibile per un'altra puntata che parla di Shardana che parla di storia del Mediterraneo noi siamo ben disposti qui c'è Chiara Vigo che dice Chiara Vigo la grande maestra di Bisso non lo dice lei lo dice Giovanna Bonino ho letto sì sì Giovanna Bonino grazie Giovanna Bonino sente Chiara si arrabbia perché io nel primo libro la chiamai maistu al maschile i maistu sono i grandi saggi che insegnavano l'arte ai discepoli come nel nascimento è molto più antico lei ha assunto questo titolo di maistu e chiede di essere chiamata maistu che sta per maestro nel senso antico della parola sì Chiara Vigo perfetto vabbè c'è c'è un'altra diciamo precisazione ma hai risposto prima con che aveva un'abilità assoluta e qui parla di fenici posso rispondere posso rispondere mi dà lo spunto per un'altra cosa io durante la la trasmissione non ho voluto affrontare l'argomento ma i fenici non esistono o meglio esistevano dei popoli che i greci chiamarono fenici pelle rossa poche parole e purtroppo nel ventennio il ministero alla cultura si chiamava minkul pop sembra una parolaccia vietò tutti i testi che non fossero greci o romani quindi non abbiamo queste informazioni ci dobbiamo assorbire i fenici ancora un po' di tempo ma i fenici erano i popoli del mare di ritorno c'è l'anas a calasa che tornavano a palermo a a a mozia a taros a cagliari a olbia eccetera e così fenici è un'invenzione dei greci ok io direi che ci siamo possiamo concludere la nostra conferenza che è stata conferenza bellissima su questa connessione tra i popoli del Mediterraneo tra gli egizi è stata veramente una molto interessante perché questa connessione è veramente una cosa fantastica anche per noi come Armakis perché porta avanti questo progetto di connessione dei popoli mediterranei fino ad arrivare alla cultura occidentale insomma quindi è un progetto ambizioso ma anche grazie a Leonardo che stasera ci ha dato ancora delle informazioni aspetta un attimo che c'è Diana carissima amica che è molto attiva con l'argomento pure Agatha di Rubio grazie mille è un fiume in piena quindi beh possiamo accennarle quando parliamo di Mosè se me lo ricordate bravo 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 niente io allora direi che grazie a Leonardo per la disponibilità per la comprensione grazie Antonella per la professionalità e soprattutto per la capacità esplicativa che ha che è veramente appassionante quindi è data sicuramente dalla dall'amore per questo argomento senza nessun problema grande saluto da Leonardo grazie a te è un'altra tua conterranea mi pare sì sì dall'Irlanda vedo dai tuoi taledana quindi io direi che possiamo salutarci saluto Leonardo fate bene saluto tutti saluto 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 il nostro pubblico saluto a chi ci ha seguito così diciamo a modi appassionati anche costante devo dire che non si è allontanato nessuno anzi sono arrivati in più vuol dire che l'argomento è piaciuto e il relatore non fa dormire quindi è una cosa molto importante normalmente un archeologo negli ortodossia si dorme prima diciamo che dopo la mezz'ora siamo già tutti a letto quindi ringrazio tutti ringrazio il nostro pubblico vi ricordo che questa conferenza sarà visibile su Facebook ma soprattutto sarà visibile nel canale YouTube YouTube di Anubi TV quindi la potete vedere tranquillamente anche nelle prossime ore o nel tempo che vorrete quindi ringrazio tutti ringrazio Leo e vi auguro una buona serata un buon weekend e una buona vita alla prossima conferenza con gli Chardin e con Leonardo Melis ciao a tutti